Mike e Yanni Gay 8 concorrenti, 8 ragazzi, giovani, piacenti, tatuati e con i muscoli in bella vista Sono i partecipanti del nuovo reality russo, dal titolo a dir poco evocativo Io non sono gay Lo show in onda online è condotto dal blogger Amiran Sardarov in coppia con il deputato della Duma, il Parlamento russo, Vitaly Milonov E proprio Milonov a suscitare scalpore, politico apertamente anti-gay è noto in Russia per le sue posizioni estremiste dalla crociata contro le bambole no-gender alla volontà di sterilizzare gli omosessuali Qui invece la fa da padrone e punta a stanare il presunto gay come un cacciatore stanerebbe la sua preda Il tutto condito da battute, gesti, doppi sensi Tutto questo in Russia, un paese che calpesta tanti diritti compresi quelli LGBT, diverte I partecipanti incarnano gli stereotipi più comuni curatissimi, labbra carnose, professioni creative E vengono sottoposti che ha prove che dovrebbero testarne l'eterosessualità Solo uno di loro è davvero gay ma tutti devono dimostrare di non esserlo Ogni puntata si conclude con un'eliminazione di colui che per i concorrenti ha meno testosterone Lo show, neanche a dirlo, sta facendo il pieno di visualizzazioni Youtube ha cancellato le puntate postate finora ma il suo ideatore non molla il colpo Provocazione o reale esagerazione? Grazie Grazie